Partiamo subito con questo tutorial come mangiare popcorn alla cioccolata Questo è un piatto tipico americano Vediamo qua Allora, vi dico subito che non ho tanta voglia perché ne ho già mangiato il pacco Tutto il pacco l'ho mangiato io Praticamente, questo è un blocco di popcorn ricoperti di cioccolata Poi al primo sguardo qualcuno potrebbe dire Ah sicuramente saranno popcorn non salati Invece no, lì che sta il bello Allora, proviamo Vedi tutto un bloccone E' il settimo giorno di io invento i popcorn con il cioccolato sopra Oh, devi more Yum Are you filming this? Uh huh Oh ok Yum 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 Poi ci può fare anche questo giochino Brucciarli un po' nel burro Un buccone aso Un piccone Un polpetto Un picchier Un po' nel po' nel passo Un porcone, un polpetto Un polpetto, un picchier can好了 uh huh Shall we're TO ask a winner If you have visto Can you try and aСТJ ? mmmm mmmm Questo è la cioccolateria Peterbuch ci ciecolatera di Jacks Sonbeam Allora per il momento un saluti